È da poco passata la mezz'ora del secondo tempo al Franco-Ossola, dove si gioca la gara clou del girone A della Serie D fra la capolista Novara e il Varese, staccato di 8 punti ma intenzionato a riaprire il campionato. Il proposito della squadra allenata da Ezio Rossi si scontra però con l'episodio che avete appena visto con i vostri occhi e che non ci stufiamo di riproporvi. Sì, avete visto benissimo, il Novara ha segnato con un gol di mano, ben evidente da questo fotogramma. Il numero 20 azzurro, Michael Benassi, difensore centrale di 32 anni, che ha vinto tre campionati di D con Parma, Cesena e Lucchese, vincerà anche questo con il Novara, non ha nessun timore nello spedire in porta la palla con la mano sinistra. L'arbitro Monesi di Crotone, invece di ammonire il giocatore e concedere il calcio di punizione in favore del Varese, convalida la rete irregolare e neppure il primo assistente Celestino di Reggio Calabria, vede la clamorosa irregolarità. Una beffa atroce per il Varese cuore grinta di Ezio Rossi, superato il secondo posto dalla Sanremese e ora a meno 11 dal Novara per un gol di mano. Almeno Diego Armando Maradona, quando aveva messo nel sacco il gol di mano più famoso della storia del calcio, domenica 22 giugno 1986, nel quarto di finale vinto 2-1 con l'Inghilterra al Mondiale Messicano, era stato sincero. È la mano de Dios, aveva detto, è il pibe de oro, ma lui si sa, era un fuoriclasse.